Un'altra giornata di pioggia prima che il cielo torni sereno. Dopo il violento acquazzone del tardo pomeriggio di ieri che ha provocato allagamenti in particolare tra Ponte Nura e Piacenza, continua a piovere sul territorio piacentino. Da domani è invece atteso un miglioramento. Le nuvole grigie lasceranno spazio al sole e all'aumento della temperatura che nel fine settimana raggiungerà anche punte attorno ai 30 gradi. Quello che ci attende dunque è un weekend dal sapore estivo prima di una nuova perturbazione. Intanto la diga di Mignano si prepara per lo storico collaudo. Il consorzio di bonifica prima di avviare le procedure deve attendere il raggiungimento del livello massimo di capienza che è pari a 337,8 metri. Attualmente mancano alcune decine di centimetri. Nel frattempo proseguono gli incontri informativi con i sindaci e i cittadini dei comuni coinvolti per avvisare la popolazione su quanto accadrà quando il livello massimo di portata verrà raggiunto.